in questa clip abbiamo selezionato per voi dall'istor Beretta questo bellissimo orologio A300 Watch movimento tre lancette miota calibro 2115 prodotto da Citizen cassa 40 mm in acciaio con finitura satinata ghiera in acciaio fondello in acciaio serrato a vite corona in acciaio a vite quadrante con indici e numeri e poi è completato dal datario e con un vetro minerale ad alta resistenza cinturino in tessuto con fibbia in acciaio personalizzata anche questo orologio la 300 Watch garantisce un'impermeabilità a 10 atmosfere fino a 100 metri oppure un'impermeabilità a 20 atmosfere fino a 200 metri a 300 Watch dall'istor Beretta